Oggi siamo in trasferta, siamo atterrati, siamo arrivati in quest'area di cantiere, sul tratto di superstrada che viene costruito tra Levan e Tepelene, che poi è una parte di un progetto autostradale più importante che prevederà anche il collegamento con la Grecia e siamo venuti qui a trovare sicuramente dei nostri amici, dei nostri clienti, che è Garden Line, che è subappaltatore di Todini per questa impresa di edilizia stradale molto importante. Dove vedete tanto bianco intorno, tanto cemento roccia, ma in realtà la costruzione di questa strada che porterà comunicazione fra l'Albania e la Grecia c'è anche tanto verde e vedremo come lo facciamo questo verde, perché in questo caso essendo pareti molto pendenti e molto inclinate non è possibile seminare con attrezzature tradizionali, perciò ci si ricorre alla semina tramite l'idrosemina, che prevede l'utilizzo e l'impiego di materiali sia di corredo al seme, ma anche di attrezzature particolari per poterla distribuire su queste pareti. Ecco, vediamo gli ingredienti dell'idrosemina. Ovviamente questo è il seme e non è sufficiente mettere solo seme per distribuirlo tramite una macchina di idrosemina, che vedremo dopo, ma ci vogliono altri due ingredienti. Uno sicuramente è la colla, che è un materiale di origine sintetica che viene inserita nella miscela dell'idrosemina per facilitare l'incollaggio del seme sul terreno e anche un certo grado di tenuta d'umidità per facilitare la sua germinazione. Poi il vero materiale coprente, quello che serve, che dà sia la colorazione iniziale a fine lavoro, ma anche quello che serve per mantenere nel tempo le caratteristiche di condizioni ottimali per la germinazione e per l'attecchimento della semente che noi andiamo a miscelare, sono questi prodotti un po' particolari che si chiamano mulch. In questo caso ne abbiamo di due tipi ben diversi, già dei mulch abbastanza evoluti che si utilizzano per inervire pendenze molto elevate, il rapporto uno a uno tra verticale e orizzontale, perciò è una pendenza molto importante. In questo caso non è sufficiente la cellulosa o il legno tradizionale che si usano per le scarpate più dolci, ma in questo caso si utilizzano in particolare questo prodotto che si chiama FlexTerra, che è un FGM, perciò è quasi praticamente un terreno sintetico più che un mulch, che permette di creare le condizioni ideali per la germinazione e l'attecchimento della semente anche per un lungo periodo, quasi fino a 18 mesi. E questo è un prodotto molto tecnico e viene sicuramente indicato per lavori di questo genere. Ecco, di cosa sono fatti questo materiale, in particolare il FlexTerra? È un prodotto di fibre di legno con dentro anche dei biopolimeri, delle sostanze particolari anche coperti da brevetto, con un colorante verde e anche con delle fibre sintetiche biodegradabili che permettono di creare, una volta distribuito anche pochi millimetri, dai 2-3 millimetri di spessore sulla parete, di creare una condizione ideale per la germinazione e l'attecchimento della semente e soprattutto fare inizialmente un'operazione di controllo dell'erosione superficiale. Cioè questo evita che si formino i rigagnoli in vigna di massima, in teoria, una volta che viene applicato e permettere di avere un controllo dell'erosione superficiale molto importante. Ovviamente c'è il seme che viene inserito insieme, come abbiamo detto, il collante, materiale sintetico, FlexTerra o perlomeno materiale simile, semente che è un mix dove generalmente si cerca di essere ecocompatibile o perlomeno a rispettare la biodiversità. In situazioni magari di minore pendenza o dove è necessaria una copertura anche di meno duratura rispetto a quello del FlexTerra, si usa l'HydroMulch 1000 che in questo caso è un BFM, è un altro tipo di mulch evoluto, diciamo che viene utilizzato per i lavori più difficili, in situazioni più estreme, che ha una caratteristica di durare meno e di avere magari una minore composizione di fibre sintetiche o di biopolibere, anche perché può essere applicato anche in pendenze minori. Ecco, una volta che abbiamo visto questi 3-4 ingredienti, quello che si deve utilizzare, andiamo a vedere dove andiamo a mettere questi prodotti, perché poi il cuore della lavorazione è proprio la macchina, vedremo brevemente quali sono le parti più importanti della macchina che servono per fare l'idrosemina e poi vediamo proprio in fase operativa come viene caricata e poi lo spruzzo finale a coprire la scarpata. Perciò ci spostiamo verso la macchina. È una macchina d'agitazione meccanica, perciò è montata all'interno una pala mossa da olio idraulico che permette di micelare i materiali, come abbiamo visto prima, FlexTerra, HydroMulch 1000 e anche volendo inserire dei piccoli quantitativi substrati di topsoil per poter uniformare la miscela quando viene spruzzata sulla parete. Ci siamo spostati sopra la macchina per far vedere una delle operazioni principali che è il caricamento dei vari materiali che abbiamo spiegato prima. Allora questa è proprio la botola dove all'interno è già stata riempita con dell'acqua, perciò cosa verrà fatto? Verranno inseriti vari ingredienti, perciò dal malcio al seme alla colla, verrà tutto micelato grazie alla pala meccanica che lo possiamo farvi vedere ovviamente perché è all'interno della macchina, verrà micelato per un certo tempo, poi il punto che finita la miscelazione è pronta per essere spruzzata sulla scarpata che dobbiamo inerbire. E questa è l'operazione di Dosemina, è semplicemente uno spruzzo con tutti i materiali miscelati, ci vuole la mano sapiente dell'operatore per spruzzare in maniera uniforme su tutta la parete. Ecco qui è importante che i delveoli e la terra rinforzata che permettono di creare lo spazio per poter fruzzare all'interno il materiale, i seme e malce per poter poi creare la parete verde senza che scivoli all'esterno.